Ora voglio fare una cosa, voglio parlare di una ricetta, una dei migliori pasta per me di tutto il mondo, le fottuccine ai bongole e gamberette, bongole, io li chiamo bongole, e gamberette, non ci vuole niente, allora prendete voi la padella, gli mettete un figlio d'olio vecina d'oliva, poi gli mettete un po' di pezzemolo, un po' di pigiusino, e un specchietto di aglio tutto tagliato, nico 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 nico, fate granciare a srosolare, appena srosola, gli buttate le bongole e i gamberette, e li facete cuocere per 10 minuti, appena li facete cuocere per 10 minuti, prendete due dieti di vino, vino bianco, e glielo mettete, appena avete paura, a mezzo alla pasta i fettuccini cuociono, le dovete scendere i fettuccini 5 minuti prima, le buttate dentro la padella, con la padella e l'amido dell'acqua, della pasta, cominciate ad gamberette con tutta la consa, tutta la consa così, gli si sta asciugando, prendete un po' d'acqua con l'amido, e ce la mettete, appena vedete che è buona, prendete un po' di pezzemolo a crudo, tagliato tutto, e ce lo mettete di su, e poi appena lo mangiate, popinzate lo signo panze, so comangiate, vedi chi dice, per me è la migliore pasta del mondo, ora voglio...